Dal 6 all'8 maggio a Cervetri ritorna la festa del patrono San Michele Arcangelo. Si parte con la messa in onore del santo e la processione il lunedì. Sarà una festa che come al solito cerca di racchiudere quel necessario connubio tra i festeggiamenti laici e quelli più prettamente religiosi. 6, 7, 8 maggio, come dicevate voi, ci sarà la festa del patrono a Cervetri. Una festa che si arricchisce di tradizioni, giochi e solidarietà. Il governo della Cuccagna è uno dei momenti storici e più sentiti dalla nostra popolazione. Questo si svolgerà la domenica 7 maggio al Parco della Legnara. Questi tre giorni in realtà cominceranno con il 6 maggio una messa presso l'oratorio San Michele Arcangelo. Sabato e domenica, quindi 6 e 7 maggio, ci saranno al Parco della Legnara e nelle zone immediatamente limitrofe i festeggiamenti, ovviamente gli espositori ambulanti, quello che è la gastronomia, degli intrattenimenti che sono necessari e soprattutto quest'anno punteremo ancora di più sulla solidarietà. Voglio ringraziare innanzitutto tutti i volontari che ci daranno una mano, i rioni, le varie associazioni. Ci saranno, vi rubo ancora un secondo solo, spettacoli per bambini, soprattutto a livello ippico, diciamo così. E soprattutto voglio sottolineare i due aspetti. La solidarietà, come dicevo prima, verso i paesi che sono stati colpiti dal terremoto e a maggior ragione valorizzazione dei nostri prodotti, soprattutto quelli culturali. La domenica, ingresso gratuito al museo e alla Necropoli Etrusca alla Banditaccia con la possibilità delle visite gratuite contattando il PIT.